Udine. La rete, la rete dell'Udinese in questo momento, 12.57 sul cronometro, il gol è di Zemura, il suo primo gol in campionato, bellissimo, il destro a giro all'incrocio dei pali alla sinistra di Scuffette, Zemura ha controllato il pallone sulla forzia di sinistra, è entrato in area di rigore al limite, ha calciato e con il destro ha battuto Scuffette alla sua sinistra per il vantaggio della formazione più nana, vantaggio meritato, colpito è colpito il Cagliari che ha avuto la difficoltà, ad uscire dalla propria metà campo con il pressing alto dell'Udinese con Zemura che porta in vantaggio la squadra di Cioppi, il minuto, il tredicesimo del primo tempo, Udinese 1, Cagliari 0, linea allo studio. Il pareggio del Cagliari, il pareggio del Cagliari in questo momento con Gaetano, il cross dalla sinistra di Augello, il colpo di testa di Gaetano che alla spalla dei difensori dell'Udinese colpisce di testa e batte alla sinistra il portiere della formazione Friulano Coi, il colpo di Gaetano arriva a freddo per l'Udinese che non aveva rischiato nulla nel corso del primo tempo il Cagliari poco fa con una punizione da parte di Lapadula, aveva impegnato Coi da 25 metri che aveva bloccato a terra e poi è arrivato inaspettato per l'Udinese il colpo del pareggio delle Cagliari con Gaetano che è sbucato alle spalle dei difensori centrali della formazione Friulana e di testa ha battuto Coi alla sua sinistra, minuto quarantaquattresimo del primo tempo, Udinese 1, Cagliari 1, studio. E dopo due minuti di recupero in cui praticamente non si è giocato è finito il primo tempo di Udinese e Cagliari 1 a 1, il vantaggio della formazione Friulana al tredicesimo con Zemura, il pareggio al quarantatresimo per il Cagliari di Gaetano, lì allo studio. Quarantaduesimo, spinge anche l'Udinese 1 a 1 tra Udinese e Cagliari, Pagero in area di rigore, il cross in mezzo, viene sporcato però è l'ultimo tocco del gioco, il giocatore argentino e quindi la rimessa con i piedi dal fondo sarà del Cagliari e di Scufetti, il portiere della formazione Rosso Blu con il Cagliari che prepara un'altra sostituzione, intanto però Scufetti sistema il pallone sul vertice dell'area piccola pronto a fare a ripartire la sua squadra con poche conclusioni negli ultimi venti minuti di questa ripresa, stiamo entrando, ci stiamo avvicinando alla novantesimo e verso quindi anche i minuti di recupero di questa sfida salvezza con Scufetti che viene invitato dall'arbitro Mariani ad accelerare i tempi. Il quarantatresimo, Udinese 1, Cagliari 1, linea Venezia. E il quarantacinquesimo della ripresa 1 a 1 anche tra Udinese e Cagliari, attacca il Cagliari tra poco le indicazioni del recupero dell'arbitro Mariani, intanto Deiola manovra il pallone per il Cagliari all'altezza della linea di metà campo dove c'è Ogello sulla corsia di sinistra che lo dà Macumbu, ancora in avanti per Pavoletti lo scambio verso la corsia di sinistra dove Gaetano riceve e controlla il pallone, la profondità ancora il pallone di ritorno per Gaetano, sempre in avanti il Cagliari in questa ripresa con il pallone allargato verso Di Pardo, il cross in mezzo, Luvumbo, il colpo di testa alto sopra la traversa della porta di Ocoglio, minuto quarantacinquesimo della ripresa, siamo al novantesimo, Udinese e Cagliari sono sull'1 a 1, linea Venezia. Siamo nel secondo del 5 di recupero, 1-1 tra Udinese e Cagliari, la volata di Ebosele sulla corsia di sinistra, Ebosele limite dell'area di rigore, ancora Ebosele entra in aria e poi sul contrasto con Mina si porta il pallone fuori, Mina molto nervoso, va a dire anche qualcosa ad Ebosele che non ha colpe perché è caduto sul contrasto con il difensore delle Cagliari e quindi ripartirà la formazione di Ranieri con la rimessa con i piedi, Cagliari che ha attaccato ma adesso stava subendo un pericoloso contropiede, il minuto è il terzo dei 5 di recupero concessi dall'arbitro Mariani, Udinese e Cagliari sono sull'1 a 1, linea Venezia. Questo punto Udine, Udine fino al termine Sebastiano Franco, vai! E appena iniziato il quarto dei 5 di recupero, Udinese e Cagliari sono sull'1 a 1, ci prova l'Udinese con Pagero, all'altezza della linea di metà campo si sgancia Ferreira sulla corsia di destra, il cross ribattuto da Ugello ma è sempre l'Udinese sulle pallone con Pagero che allarga troppo per Ferreira, il pallone finisce in fallo laterale, la rimessa è del Cagliari, Ugello con tutta calma si appresta a batterla, 3 e mezzo di recupero ce ne saranno 5 concessi dall'arbitro Mariani, il Cagliari con Ugello chiama i compagni più raccolti, più vicini dentro la metà campo difensiva, Ugello va alla battuta all'altezza della linea di metà campo verso Pavoletti che è scavalcato dal pallone, è recuperato dalla formazione friulana, con la profondità viene trovato Brenner, il pallone finisce oltre la linea di fondo, ci sarà calcio d'angolo in favore dell'Udinese, spinge anche il pubblico delle friuli per quella che potrebbe essere l'ultima azione d'attacco della formazione friulana, Samarsic chiama a raccolta anche i tifosi, andrà lui a battere questo calcio d'angolo dalla bandierina offensiva di destra, andrà con il sinistro a rientrare il giocatore della nazionale serva, Samarsic si sistema il pallone sulla bandierina delle corner, l'unico giocatore in barriera è Luvumbo, attenzione per il sinistro di Samarsic, tutti i giocatori dell'Udinese o quasi in area di rigore, Samarsic il cross in mezzo, attenzione il pallone messo fuori dal colpo di testa di Perez, la rimessa con i piedi sarà del portiere delle Cagliari, si abbondantemente alato il colpo di testa da parte del difensore argentino, da parte di Perez, Scuffet con tutta calma si sistema il pallone sul vertice dell'area piccola per la battuta di questa rimessa con i piedi, intanto Ranieri chiama Pavoletti ad accorciare la squadra, a tenere corta la squadra con tutti i giocatori raccolti nell'altezza della linea di metà campo con Scuffet che va direttamente oltre la linea di metà campo e in questo momento arriva il fischio dell'arbitro Mariani, finisce 1-1 tra Udinese e Cagliari.